In questi mesi di emergenza sanitaria ed economica la Camera di Commercio delle Marche si è impegnata per rafforzare il supporto alle imprese e al territorio continuando l'erogazione online dei servizi, ampliando l'offerta di attività formativa, garantendo in presenza alcune attività con tutte le misure di sicurezza imposte dalla situazione. La capacità di fuoco di questa Camera di Commercio è stata importante perché abbiamo potuto reagire con un investimento di circa 8 milioni di euro, di cui 5 destinate nella fase iniziale al credito, in particolare per le piccole imprese, e anche al microcredito per combattere l'usura. Gli ultimi dati diffusi dall'Istat ed elaborati dalla Camera sull'export registrano un meno 9,5% rispetto al periodo gennaio-marzo dello scorso anno, dove l'interscambio commerciale marchigiano è già in affanno nei primi tre mesi dell'anno, con un risultato trimestrale pari a 2,7 miliardi di euro. Tutte le province delle Marche fanno riscontrare andamenti tendenziali sfavorevoli. Principale mercato di sbocco per le produzioni pesaresi rimane l'Europa con Francia e Germania. Le Marche si sono attestate intorno a 9,3%, la provincia di Pesaro è un po' superiore all'8%, quindi ci siamo difesi abbastanza in un modo più o meno uniforme in tutto il territorio regionale. Il settore della meccanica e del mobile pesarese registra un risultato buono dell'interscambio commerciale, se non fosse stato per il lockdown. Il mobile chiude il 31 marzo con un più 3%. L'azienda speciale per non far perdere questa crescita frenata ha messo in campo diverse strategie. Fare dei webinar mirati che possano da un lato formare sempre di più i nostri imprenditori, di fargli mantenere i mercati che avevano prima con contatti anche B2B in piattaforme dedicate online, quindi un lavoro straordinario a supporto degli imprenditori, soprattutto nei prossimi mesi perché non si inizierà a viaggiare così facilmente. Tutto fa pensare che da qui alla fine dell'anno non ci saranno fiere internazionali a cui presenziare e noi dobbiamo in questo momento supportare le aziende per non perdere quei contatti e quella competitività che invece a inizio anno era presente nel nostro territorio e nella nostra regione.